Incontro istituzionale a Teramo la presenza dei vertici della Banca Popolare di Bari per discutere del nuovo corso dell'Istituto di Credito sul territorio regionale. La Popolare di Bari, ricordiamo, nella nostra regione inglobato Tercas e Caripe, è annunciato un ridimensionamento della sua presenza sul territorio. Farà meno di diversi sportelli dagli oltre 90 complessivi presenti oggi, ma restando comunque in posizione primaria rispetto agli altri istituti di credito. Qual è il futuro degli sportelli Tercas? È molto brillante, credo, perché rientrano nel progetto di rilancio della nostra banca. Come è noto, finalmente, dopo tutte le difficoltà che il gruppo Banca Popolare di Bari ha avuto, e prima Tercas, oggi c'è un azionista stabile, cosiddetto paziente, che non vuol dire che è un azionista sciocco, ma è un azionista che sa quanto è duro il lavoro che ci aspetta, quanto tempo ci vorrà per rimettere in carreggiata la banca, ma sa anche che il valore della banca sta proprio nei territori. E quindi noi abbiamo altissime aspettative di rilancio proprio di questo territorio, proprio dell'ex rete Tercas. I licenziamenti non ce ne saranno, le filiali verranno chiuse, meno di quanto si era inizialmente prospettato. È inevitabile. La banca ha bisogno di recuperare redditività. Come sapete, questo era un gruppo bancario sostanzialmente fallito, e se non fosse intervenuto prima il Fondo Interbancario e poi Medio Credito Centrale, con la filiera Invitaglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, la banca sarebbe fallita. Quindi abbiamo un dovere sacrale di rispettare i quattrini pubblici, e quindi purtroppo di chiudere qualche sportello. Ma vi assicuro che quelli che chiudiamo sono proprio quelli assolutamente insalvabili, che da un punto di vista economico purtroppo non avevano alcun senso e non offrivano nessuna prospettiva. Grazie al lavoro anche dei sindacati, del tavolo sindacale con la banca, si è lavorato per evitare e impedire che possa esserci una ricaduta occupazionale. Quindi su quel fronte è in atto un piano che comunque consentirà di garantire l'occupazione all'interno della banca. Cosa diversa, però altrettanto importante, è invece il presidio territoriale. Sono due temi che devono andare di pari passo e rispondono alla necessità di tutelare il nostro territorio e soprattutto, ripeto, di garantire una prospettiva al territorio stesso e così una prospettiva anche alla banca. Questo dobbiamo riuscire a far comprendere. Credo che la compattezza istituzionale di questo tavolo, con la presenza importantissima dell'amministratore delegato oggi qui a Teramo, è sicuramente di buon auspicio per aprire una fase nuova e diversa. Grazie. 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 Grazie.